I fatti sono avvenuti nel novembre 2011. Due ragazzine bolognesi che all'epoca avevano 15 e 16 anni erano state convinte in cambio di un cospicuo guadagno a esibirsi in dei porno show registrati o in diretta che sarebbero stati trasmessi online. E' per questo motivo che il giudice Francesca Zavaglia ha condannato tre persone per induzione alla prostituzione e pornografia minorile. I condannati sono stati un 37enne di Lugo che di fatto è stato il reclutatore delle ragazze che ha registrato i video nella sua casa e segnalato sui social network la presenza di questi ultimi online. Oltre che aver incassato i proventi dei video stessi sia dal gestore del sito che dai clienti. Un altro lughese di 44 anni e una fentina di 24 condannati per aver rassicurato le ragazzine sul guadagno e sulla sicurezza dell'operazione. Per i tre le rispettive condanne sono state a 3 anni e 4 mesi, 2 anni e 1 anno e 11 mesi. L'inviato a giudizio invece è il 22enne bolognese che aveva preso parte al video pur essendo consapevole della minore età della sua coprotagonista e della destinazione del filmato. Grazie a tutti.